Ben ritrovati a tutti voi, una buonissima serata, grazie come sempre per essere in mia compagnia. Già avrete intuito che qualcosa di speciale ci sarà in questo appuntamento della sera che come sempre si apre con il nostro indirizzo di posta perché potete sempre restare in contatto con la nostra redazione semplicemente inviando una mail al nostro indirizzo che è angoli chiocciola espansionetv.it. Ma davvero insomma non perdiamo tempo prezioso perché è tornato un amico, un esperto insomma che ho tantissimo piacere di ritrovare. Do nuovamente il benvenuto a Marco Di Lauro, ciao Marco. Ciao, ciao Dolores. Una promessa mantenuta, quella di tornare. Ogni promessa è di invito, sì. Certamente, ricordo che in questa serata sei qui in veste di ambasciatore per la Lombardia della Compagnia Nazionale di Danza Storica e qui si aprirà un altro mondo. Un gran capitolo. Ma non sei solo perché con te questa sera diamo il benvenuto anche a Martina Frangione. Ciao Martina. Ciao Dolores. Grazie per essere qui. Grazie a te. Tu sei un'allieva della appunto Compagnia Nazionale di Danza Storica. Ma che bello, soprattutto perché lei ha uno straordinario costume storico e sei stato molto gentile perché ne hai donato uno anche a me. Tutto questo perché vogliamo parlare, come abbiamo fatto qualche tempo fa in occasione del Carnevale, di questa tua grande passione, insomma, per la voglia di tornare indietro nel tempo e ripercorrere davvero delle epoche storiche meravigliose. Perché diciamo la verità, insomma, indossare questi abiti è ingombrante ma è straordinario. Basta guardarti e sognare. Bellissimo. Come ho detto l'altra volta, sono due passioni le mie, le 700 con le maschere che a te e a tutti gli amici telespettatori ho già mostrato e questo è l'altra parte del mio cuore, l'800. L'800 è il periodo romantico, il periodo più bello che c'è stato nel 1850, dove tutto era una cortesia, un'educazione, un rispetto. Dovrebbe essere tuttora, con le donne, con voi dame, però diciamo che in quel periodo era l'esaltazione del rispetto e dell'educazione e con questi abiti ancora di più, ancora più romantico. Ecco, questa è, come dire, l'introduzione, la premessa anche per parlare della Compagnia Nazionale di Danza Storica, della quale, insomma, ovviamente tu fai parte e con la quale, soprattutto, voi partecipate davvero a degli eventi e a dei momenti bellissimi. Abbiamo anche delle immagini che la regia tra poco ci manderà, dove davvero voi, in contesti molto differenti, tra l'altro, ripercorrete delle epoche storiche straordinarie. Io, se posso permettermi, sono ambasciatore per la Lombardia di Compagnia Nazionale di Danza Storica, rappresento Nino Graziano Luca, che è il presidente di Compagnia Nazionale di Danza Storica, il quale, sei anni fa, ha fiutato questa mia dote e mi ha invitato a un gran ballo. Cos'è un gran ballo? Io mi sono chiesto con mia moglie, andiamo, proviamo, vediamo che cos'è questo mondo, perché già era dentro di me, mi incuriosiva, però non avevo mai partecipato. Quindi la conferma l'hai avuta successivamente? La conferma l'ho avuta entrando in Palazzo Brancaccio, indossando un uniforme, come vedete, in sovrimpressione, e sono rimasto incantato dal fatto che 300 persone danzavano tutti allo stesso modo, con un sorriso e un entusiasmo incredibile, che ho ritrovato in me stesso, perché ho portato me stesso dentro questo gran ballo. Beh, insomma, da lì poi si è aperto un mondo, perché Nino mi ha proclamato ambasciatore, ha dato la possibilità di portare qui a Como, in Lombardia, la danza storica, e da lì, piano piano, siamo cresciuti e balliamo, 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 danziamo. E questa è una cosa bellissima. A questo punto, insomma, io andrei sicuramente da Martina, che è un'allieva appunto della compagnia, per sapere, insomma, innanzitutto come è nata questa tua passione, perché ti sei avvicinata e, insomma, poi che cosa è accaduto? È stato un po' tutto per caso, nel senso che io sono di Como e ho frequentato vari eventi, varie cose. Un giorno mi ritrovo a un evento di Marco e da lì è scattato tutto, mi sono innamorata degli abiti, mi sono innamorata soprattutto di quel contorno, il tutto, perché non è solo l'abito, non è solo il danzare, ma si rievoca veramente quel periodo storico dove c'era il garbo, dove c'era il romanticismo, dove c'erano tante cose. Quindi mi permetto di dire, siccome tu sei molto giovane, che probabilmente questi aspetti, come tra l'altro anche Marco sottolineava poco fa, forse nei ragazzi contemporanei un po' mancano. E invece quanto sarebbe bello essere comunque ancora in un mondo dove il garbo, il corteggiamento, insomma, un certo modo di porsi, almeno qualche volta, insomma, tornano ad essere protagonisti delle nostre giornate. E quindi tutto questo ti ha affascinato, ti è piaciuto e tu hai iniziato a danzare. Sì, ho iniziato a danzare, ormai sono quasi quattro anni e si va sempre più avanti, ci sono sempre più voglia di fare gli abiti, sempre più voglia di partecipare a Magnifici 20. E quindi è davvero una scoperta continua. A proposito, Martina accennava, c'è anche l'occasione, insomma, di costruirli questi abiti, Quindi come era accaduto per l'avventura del carnevale, anche in questo mondo, la vostra non è soltanto la creatività e la coreografia, insomma, del ballo, Assolutamente no, perché poi molte dame prendono spunto da quadri d'epoca, da immagini, chiaramente, su internet, e prendono spunto il colore, il dettaglio, come spiegavo anche l'altra volta, no? Perché la mia particolarità è poi di dare un dettaglio, di consigliare una spilla che possa essere particolare o che possa ricordare anche la spilla della nonna, perché no? Dovrò tornare e prendere un oggetto di famiglia e poterlo indossare. Quindi tutto questo è proprio una collaborazione tra tutti noi. Certo, io guido un po' come deve essere sia con le danze che esteticamente, però poi ognuna ci mette del suo. Martina ha scelto questo colore candido bianco perché lei si sente, insomma, in questo... Però non è detto che in futuro si creerà, costruirà un nuovo abito di un altro colore. A seconda del momento, anche perché, ovviamente, mi viene da chiederti, a seconda delle varie situazioni alle quali voi partecipate, che abbiamo detto sono molteplici, poi magari ci racconti qualche cosa nel dettaglio, la rivisitazione storica, immagino, richieda anche un avvicinarsi abbastanza fedele al momento storico. Quindi dovete anche studiare, insomma, informarvi su quella che era l'epoca. Assolutamente sì, perché come puoi notare ci sono dei fiori dei capelli e la moda prevedeva rose, fiori, peoni a secondo e nastri. I nastri, anche sugli abiti, erano presenti in quel periodo. Parlo per noi, invece, cavalieri, gli uniformi, indossare un uniforme, indossare un frac, cioè non capita tutti i giorni di poter danzare con questi abiti. E anche noi, insomma, andiamo alla ricerca di dettagli, di particolari, che possono essere le spalline di un uniforme o una fascia o una spada che ricorda quel periodo storico. Che possano arricchire, insomma, completare anche il vostro outfit. Certo, certo. Facciamo un salto nell'epoca più contemporanea. Ma Martina, torno da te a questo punto, sempre sulla scia, insomma, della consapevolezza del fatto che tu sei una giovane ragazza. Quindi, quanto ti affascina, appunto, il fatto di indossare un abito di questo genere che, per la verità, è abbastanza ingombrante. Io stessa, insomma, sto impegnando tutta la mia consuetta poltrona e non so come potrei fare muovendomi. Quindi, immagino il ballo. Cioè, come hai imparato a gestirti e anche i passi di danza con un abito così ingombrante, così particolare? Allora, all'inizio è stato molto comico. Nel senso che io andavo in giro per casa con la crinolina per abituarmi a muovermi, comunque, a dare anche un peso ai movimenti perché sennò si rischia davvero di non essere più leggiadre. Certo, perché, insomma, questa leggerezza è un elemento importante nel ballo. È molto importante nel ballo perché la grazia a quei tempi era molto importante, soprattutto per noi dame. E quindi ero in giro per casa con la crinolina ad abituarmi e con il tempo adesso io ci andrei in giro tutti i giorni perché è diventato il mio pane. Quindi, insomma, questo è il tuo mondo in assoluto. Le tue amiche cosa pensano di questa tua passione? Le mie amiche sono molto affascinate e delle volte magari non mi capiscono. Ma come, hai vent'anni, ti appassioni, è una cosa come la danza storica. Ma io sono dell'idea che quando veramente ci entri dentro è un travolgimento unico, un travolgimento unico. Insomma, io ti capisco perfettamente. Non so come mai, ma ho questo trasporto totale nei confronti della danza storica. Ma sì, ma considera, Dolores, che noi danziamo, come dicevi tu prima, in tante situazioni che possono essere dei palazzi storici o anche dei castelli o delle ville. Quindi io dico sempre apriamo queste ville, facciamole rinascere, facciamole rivivere e facciamo tornare i fasti di quel tempo. Anche perché è davvero un'occasione, intanto per rivisitare la storia che è il nostro passato, quindi benvenga. E anche per approfondire queste location che sono veramente prestigiose. Poi noi, insomma, a Como e sul lago di Como ne abbiamo una varietà. Quindi io dico sempre apriamo, apriamo queste ville e facciamole rivivere. Senti, ci racconti qualche, insomma, evento importante, qualche location che in qualche modo più di altre ti ha affascinato? Guarda, con Nino spesso e volentieri ne parliamo e cerchiamo, studiamo, cosa poter proporre nei nostri gran balli. L'ultimo gran ballo che abbiamo fatto internazionale l'anno scorso a Budapest ci ha colpito veramente tanto perché abbiamo ballato veramente in un palazzo storico di Budapest. Noi seguiamo anche un po' la linea e i passaggi di Sissi, la imperatrice Sissi. Quindi anche tre anni fa abbiamo ballato a Vienna, a Schombron. Quindi vi posso assicurare che entrare in quel salone dove per la prima volta Strauss ha suonato con il suo violino, beh, insomma, c'è stato un impatto e un brivido nella schiena. Quindi ti posso dire che eravamo in tantissime, anche lì in 200-300 persone e in questa sala così storica siamo rimasti tutti incantati. Poi attraversando la strada avevamo Schombron, dove abbiamo passeggiato con ombrellini, con ventagli. Quindi, insomma, davvero una bellissima atmosfera. E a proposito di atmosfere particolari, se mi concedi soltanto 10 secondi, insomma, anche perché siamo in chiusura della nostra chiacchierata, voglio ricordarvi a voi appunto che seguite Espansione TV, che dal 9 di aprile è partita sempre sulla nostra rete, la chiedo a Moriero ogni giorno alle 7.45, alle 13.45, quindi anche lì potrete sicuramente sognare seguendo questa bellissima fiction colombiana. Ma detto questo, soltanto un lancio, perché quando tu vieni a trovarci non è mai finita così. Eh, ormai mi conoscete. Ormai ti conosco, infatti ci rivedremo tra poco, tra qualche tempo, perché anche a Como arriverà un evento importante. E ne riparleremo. Como si sta preparando. Certo, ne riparleremo. Quindi io ringrazio Marco Di Lauro e Martina Frangione per essere stati qui. Grazie a te. Quindi arrivederci a prestissimo. Ma arrivederci anche a voi, restate lì perché Angoli torna. Grazie a te.